Pallone che arriva in area di ricore, il colpo di testa, pallone poi resta in area di ricore e alla fine la mette dentro il numero 5 a Bellili, 1-0 per il Marocco. Viene avanti direttamente tra i piedi dell'attaccante del Marocco, prova a caricare il destro questa volta, lo fa il numero 22, parata all'estremo difensore del Salvador, col calcio e punizione, proprio in fuori di questi ultimi, parte il numero 10 col destro, ottima respinta all'estremo difensore del Marocco. Calcio e punizione per il Marocco, fischia l'arbitro, il pallone che arriva dentro, colpo di testa e poi la sponda per il gol del 2-0 di Albiad, 2-0 Marocco. E la Tiki manda in avanti ancora, e la Tiki, cross dentro, arretrato, che è il tiro che finisce alto questa volta di Albiad. La difesa del Marocco, perde palla il Marocco, cerchia il centrocampo col suo numero 6, allora riparte il Salvador. Ancora con Martinez che prova la conclusione. Ancora Ambrosio, Ambrosio questa volta però perde il pallone, riconquistato dal numero 7, col colpo di tacco, Bertomajid col sinistro. Allora deviazione del difensore Mecivar, calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, parte Kamul, pallone dentro, colpo di testa, allontana poi Abdeleli, non definitivamente poi Alassa si coordina, tiro largo. Ambrosio, allontana la difesa, colpo di lavoro per Albiad, cross e abbasso, Ambrosio allontana. E lo mette giù e l'Abiad, poi l'appoggia verso il suo numero 22 che si allarga il pallone sulla sinistra. Rientra sul destro il numero 17 che prova la conclusione, il pallone resta lì, Cicoria non riesce a spingerla in rete. Su Ambrosio, non c'è nulla però secondo il direttore di gara, Paceco, Kamul, Kamul carica il destro, respinta di Abder. Per vie centrali e l'Abiad lancia in avanti verso il suo numero 7 che di testa prova a spizzarla, poi Mecivar alza questo pallone che diventa buono per il numero 15 che si coordina col sinistro, tiro che si spinge di poco sul fondo. Lascia in punizione per il Marocco, punizione invitante, parte il tiro, attiene il portiere del Salvador, questo pallone, Zerva Abdeleli. Lancia in avanti verso l'Abiad, ancora l'Abiad entra in regore, l'Abiad uno contro uno col portiere, l'Abiad 3 a 0 per il Marocco. Ci vangolo battuto corto, Kamul, pallone dietro verso Alas col sinistro, tiro ribattuto ancora col sinistro Alas, questa volta largo. Tipo sul numero 10 del Salvador che allontana rimessa laterale, ma c'è il triplice fischio del direttore di gara, vince il Marocco 3 a 0 su El Salvador.